buongiorno a tutti ciao a tutti belli e brutti da michelone versione mattutina 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 allora intanto come dico sempre quando aprite il video subito iscrizione al canale like campanellina solita storia mi raccomando questo è anche mi raccomando vi lascio il link sotto iscrivetevi anche l'altro canale quello della gattina poverina dai su fatevi una cortesia dai non non siate tirchi 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 allora video ancora da mezzo addormentato per aver bevuto caffè ancora mezzo addormentato mezzo rinco oggi è mezzo rinco questo video io volevo già farlo ieri sera però avevo già caricato due video non c'avevo coglioni perché io sono un orso un orso quando non c'ho voglia fare un cazzo non c'ho voglia proprio e quando ho sentito sta notizia a me un po mi veniva da ridere un po mi sono caduti anche i coglioni guarda devo dirvi la verità devo dirvi la verità perché a me piace youtube youtube ma porca miseria ragazzi sta venendo qui anche l'affonia anche l'affonia me sta venendo su questa piattaforma porca miseria a me i giornalisti stanno sul cazzo è stanno sul cazzo forte a parte qualche eccezione e se volete vi faccio anche i nomi tipo il vacaroni poi c'è il sergione vessicchio e ci sono i due lì ma è sergio maletto è quello che somiglia voody allen questi qui sono gli unici tre che che perché c'è anche sono i più quelli che non hanno peli sulla lingua che dicono gli altri sono tutti tutti fuffa tutti chi per un motivo qui per l'altro è tutto un leccaggio di culo è tutto un leccaggio di culo poi ci sono quelli tipo giuliani tipo 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 coso lì quello quello del milani suma suma mamma mia suma suma il pelegati da pompe legati anche simpatico diciamo siamo anche però a parte questi tre parlo della parlo di juventus gli altri guardate c'è anche perché questi 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 giornalisti aprono il canale per dire un cazzo un cazzo perché io li seguivo li seguivo più che altro per ascoltare magari le notizie di mercato che potevano darti magari loro sono più esperti sono dentro nella sono più dentro nelle invece sanno questo sanno più ragazzi di video giuro sanno più certi youtuber che hanno qualche aggancio magari dentro che loro sti qua poi riportano le notizie dopo dopo io ragazzi un tempo fa ho fatto un video adesso divaghiamo arriviamo 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 al punto ho fatto un video dei cinque miei youtuber preferiti in uno luca luca totti che per me potrebbe andare presentare a sanremo ho detto che quello lì alle fonti ma veramente alle fonti quello lì e quello lì quando dice quella cosa si avverano perché io per quello vi ho detto io tante volte andate a guardare quelli seri non andate a guardare le quelli che scrivono i video sotto poi aprita e non è vero un cazzo la notizia che scrivono sotto non è vero scrivono quello lì solo per farvi per far in modo che andate a vedere il video per fare visualizzazioni andate a vedere quelli seri perché ci cascavo anch'io eh questi qua ci cascavo anch'io quel stivello umano lì quel met di p10 quell'altro cioè quelli lì sono una roba che loro ci lavorano così io lo faccio per divertimento ovviamente se il canale cresce sono contento chi non lo fa magari per qualche spicciolo ma per qualche soddisfazione personale ma quelli che sparano le cagate che mettono sotto il nome per farvi perché danno la notizia e poi apritevi e non dicono un cazzo e non dicono la verità perché sono tutte fake a me stanno sui coglioni i ragazzi in una maniera e ce ne sono ragazzi una caterma una caterma una caterma adesso abbiamo divagato un po sul discorso per per dirvi come la penso io adesso c'è sta storia che arriva anche il cornuto il cornuto guardate ce ne sono tre di giornalisti che mi stanno veramente veramente sul cazzo cioè quello quello della rai lì uno è pistocchi quell'altro quello che pesta le donne l'abbiamo avete capito la come variale e sto qua adesso che arriva sulla piattaforma guardate ieri tutti già a fare video a parte che questo qui secondo me non dura tanto perché gli arriveranno tante di quella merda sotto nei commenti che questo chiuderà il canale come gli è successo è l'interista lì che all'interista quello che faceva le telecronache ha dovuto chiudere i canali perché era talmente smardato sotto che non è non 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 ce la faceva più ha dovuto chiudere il canale questo ziliani ma tu questo questo schifosa persona qui che va a infamare già Gianluca Viagli tu ti permetti di andare infamare Gianluca Viagli guardate io spero che la famiglia lo denunci a parte che già Agnelli lo porta in tribunale lo porta in tribunale e ieri ancora ha fatto un tweet perché lui dai twitter vuole chiudere lì e venire a rompere i coglioni qua nella piattaforma avete capito cosa fa perché siccome lì sicuramente non ne può il più adesso cerca di venire qua a rompere i coglioni qua da noi e cercava di leccare il culo ai suoi follower che lui è tutta la e sono 15 anni che lo portano tutti per i tribunali e che così non è giusto ragazzo se tutti ti portano nei tribunali vuol dire che rompi il cazzo a tutti guardate che se Agnelli ti porta in tribunale perché quella Juvento sapete come sta sempre zitta potete potete anche frustarli non dicono mai in cazzo se Agnelli ti porta in tribunale vuol dire che ha rotto i coglioni ma voi voi cioè andate a vedere l'infamate che questo personaggio che dei tre è il più vicido perché questo qui vive solo vive solo perché non dà notizie è questo qui questo vive solo per infamare la Juventus ovviamente il 60 per cento dei tifosi è anti juventino e gli va dietro di fatti il 60 per cento 40 40 per cento sono juventini e 60 per cento sono anti juventini di fatti lui c'è 60 mila così cade giusto no guardate ci sono arrivato senza volere perché è così è così quello infama Gianluca Viali ha infama tutti guardate se c'è veramente un dio prima o poi è quello lì qualcuno gliela farà pagare perché ragazzi ragazzi alzar le mani è brutto ma io spero che prima o dopo qualcuno lo becchi per strada quello lì e gli dia una rata di botte ma una rata che perché quelli lì le meritano quelli lì e quegli altri due quello lì che pesta le donne perché quello lì pesta le donne quell'altro no? quello della Rai no? che si permette di rompere i coglioni tanto è denunciato perché picchia le donne quell'altro ma è quel pistocchi mandato via da dove lavorava da Mediaset perché anche quello lì era un fenomeno sono tutti fenomeni quelli là che si mettono a rompere i coglioni nei social a fomentare odio ragazzi ricordatevi che se il calcio in queste condizioni la maggior parte della colpa è loro è loro perché quelli lì sono i primi i primi a fomentare e a me quelli che fomentano odio tipo giornalisti o quel vecchio di merda lì di interista lì di vecchio nono bastardo e io quelli lì non li sopporto perché quelli lì dovrebbero dare l'esempio a quei nuovi che crescono invece li fanno venire male su pieni di odio e poi succedono le disgrazie ragazzi questo è questo volevo dirvi questo volevo dirvi abbiamo un po' divagato per dirvi che arriva il cornuto il cornuto perché questo qui voi dovete sapere che lo sanno tutti che è un cornuto che sua moglie che la signorina che a parte che ciulava un po' con tutti ma se la penetrava uno della juventus allora siccome lo sanno tutti e ripeto questa cosa e allora forse per quello ce l'ha con la juventus perché il nostro grande monterone montero si faceva la sua donna tutto questo odio forse nascerà anche da lì no è così è così allora tanti monterini casa che gli corrono pensate che vita di merda che fa quello lì cornuto stracornuto strastracornuto e rigetta il tutto il suo odio contro una squadra che chissà cosa gli avrà fatto la juventus a parte montero chissà cosa gli avrà fatto ragazzi questo volevo dirvi primo video di giornata da disperare da disperare come che diciamo noi qua in dialetto allora iscrizione canale qui ascoltate bene a scherzona questo canale iscrizione canale sotto link vi lascio sotto il link e link della gattina per favore iscrivetevi alla anche al canale della gattina fate fate un favore a michelone dai su ho dovuto dividere il canale in due già sapete il perché il resto ciao a tutti per i brutti e ricordatevi che un iscritto al giorno toglie il medico di torno uno di qua e uno di là ovviamente ciao ragazzi e buona giornata